Le feste devono essere festose, non possono essere riflessive, devono essere feste euforiche, di coglioni che si vestono per feste che non esistono, per un carnevale che non c'è. E il fondo di oggi di Ernesto Galli della Loggia lo sottolinea in modo esemplare, perché abbiamo dimenticato i morti, non festeggiamo i morti, ma festeggiamo feste che non sono nostre, celtiche. Ecco qua, streghe di Halloween e nostre identità perdute, feste, fantasmi e zucche vuote. E ha ragione, perché improvvisamente io a Monte Carlo, per l'appunto, e certo Monte Carlo è il luogo più cosmopolitano, più apolide del mondo, lì non si sa chi c'è, certo c'è la cultura di Ranieri di Monaco, c'è qualcosa che ancora forse si vede in qualche frammento sopravvissuto e sommerso dal cemento e dall'oro, però certo non c'è una cultura così riconoscibile come quella piemontese, andate arma di taggia per sentire come subito torna la vita italiana. E c'è una cultura nostra, una cultura delle Langhe, una cultura del Monferrato, c'è una cultura, si sente, respira, come c'è una cultura dei morti. Ebbene, a Monte Carlo, dove tutto effettivamente è più lontano e più americano, quindi le radici sono meno riconoscibili, finiti i festeggiamenti, vado in un locale da cui vedo uscire streghe, fantasmi, figure mascherate, scheletri, carnevale, tutti brutti, tutti che fanno vedere la parte peggiore, secondo questo rito e mito lontano, perché questa festa americana è arrivata a Monte Carlo. E passi per Monte Carlo, accendo la televisione, vedo non i morti, ma il carnevale, celtico in Italia. Grandi feste, streghe che bruciano, stupidaggini, sciocchezze. Per una festa nata l'anno scorso, forse, perché le mode come i Burgi Burgi, la Coca Cola, i jeans, quello che ci hanno imposto con l'idioma americano e quindi senza neppure possibilità di tradurlo, stabilendo che quella è l'unica lingua possibile, l'unico esperanto possibile, non è soltanto un fatto della lingua, ma anche dei comportamenti. Non si va dal comportamento alla lingua, ma dalla lingua al comportamento. Siamo diventati americani. Ed ecco allora festeggiare, sentite come Galli della Loggia commenta, perché degli italiani giovani, ma anche meno giovani, decidono a un tratto di mettersi a festeggiare Halloween, sì che improvvisamente non solo le città, ma anche i borghi più riparati della penisola, quindi si aspetterebbe quelli dove ci sono proprio quei culti e quelle radici che lì sono nate, quelle che studiava l'antropologo De Martino, quelle che studia oggi Lombardi Satriani, quelle che consentono di sopravvivere a riti tra il pagano e il cristiano, in quel luogo dove andammo guardia San Framondi, vicino a Benevento, dove ogni sette anni c'è il sangue, un sangue pagano, un sangue del dolore, un sangue che poi entra nella cultura e nella sensibilità cristiana, un sangue dei flagellanti. In questi luoghi riparati non c'è più quello, non c'è più i flagellanti, ci sono le streghe e probabilmente anche Galli della Loggia era in uno dei borghi più riparati della penisola, in un posto dove si aspettava di vedere altro. Si riempiono improvvisamente di zucche, di streghe e di folletti, perché degli italiani giovani, ma anche meno giovani, che probabilmente neppure si ricordano più di cosa sia la Befana. La Befana, che certo non è la nostra testa più specifica, perché è talmente estesa, talmente universale, che è di tutti i piccoli borghi e le grandi città d'Italia, quindi la Befana forse è anche meno di quello che si vorrebbe ritrovare salvaguardato in luoghi riparati del Monferrato o del Beneventano. Però la Befana, la Befana ha vinto Babbo Natale in una certa epoca, ha vinto soltanto Babbo Natale, altro americano, altro importato, altro buffone da circo che ha vinto sulla Befana. Per cui Babbo Natale cade giusto perché coincide con la natità di Cristo che è di tutti, dei cristiani del mondo. La Befana è cancellata. Andreotti, perdoniamogli i baci, ma avesse salvato la Befana, ha cancellato anche la Befana, ha cancellato la Befana e i morti. Ecco, e che ancora più probabilmente non hanno mai saputo cosa siano i fuochi di San Giovanni, decidono invece che fa proprio al caso loro una festa celtica importata dagli irlandesi negli Stati Uniti, quindi dall'Irlanda agli Stati Uniti e dagli Stati Uniti come delle scimmie da noi. D'altra parte abbiamo seguito anche Garzon, il quale dimenticandosi per esempio di Saddam Hussein, per dirne uno, o anche di Gorbaciov, per dirne uno meno pensato, dimenticandosi di taluni che continuano a dare qualche colore rosso di sangue al mondo, ha scelto il suo Pinochet, la controfigura di Franco, il Franco che si è dimenticato e che non hanno fatto in tempo a perseguire. E allora anche lì naturalmente dobbiamo seguire il modello, c'è uno che ha stabilito di fare una cosa, gli italiani corrono, imitano il grande magistrato. L'imitatore è in questo caso il ministro di Liberto, il quale ha detto c'è qualcuno che deve denunciare qualcosa? Non cerchiamo di mancare a questo appuntamento. E contemporaneamente gli italiani festeggiavano la festa celtica. Allora perché tutto ciò che non si presenta con connotati italiani può in Italia contare sempre su un'attenzione immediata e spesso su un successo travolgente? E qui viene fuori uno dei problemi, il ministro della cultura. La cultura non è soltanto la cultura dell'arte, la cultura del cinema, dello spettacolo, ma è anche la cultura così come l'antropologia ce l'ha indicata, la cultura e le radici, la civiltà, quello che siamo, romagnoli o siciliani o napoletani, quello che siamo noi, la nostra lingua, il nostro dialetto, la nostra sensibilità, il nostro umore, i nostri sapori, quello niente, non c'è un ministero che lo difende, anzi tutto viene confuso, tutto viene cementato, tutto viene cancellato, tutto viene americanizzato e anche le feste devono essere festeggiando gli americani. Quindi oggi 2 novembre festeggio la morte del 2 novembre. Un altro morto si aggiunge ai morti. E in questo giorno di mesta festa, che ognuno di noi privatamente celebra, rimpiango d'aver perduto il senso e il destino della nostra civiltà.